Bullismo e cyberbullismo rimangono una delle minacce più temute tra gli adolescenti. Secondo un'indagine dell'osservatorio in difesa, nell'anno del covid il 61% dei giovani dichiara di esserne vittima e il 93% si sente solo. Sentiamo il servizio. Bullismo e cyberbullismo rimangono una delle minacce più temute tra gli adolescenti dopo droghe e violenza sessuale. Ne è vittima il 61%. Ragazzi e ragazze non si sentono al sicuro su web. Nell'anno del covid-19 i giovani hanno espresso tutta la sofferenza per il senso di solitudine. Il 93% di loro afferma di sentirsi solo, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. E' questa l'allarmante fotografia scattata dall'indagine dell'osservatorio in difesa, che ha raccolto le opinioni di 8.000 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie in tutta Italia su violenza, discriminazioni e stereotipi di genere. Bullismo e cyberbullismo, diffusi in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo a scuola, che si svolge il 7 febbraio di ogni anno, e del Safer Internet Day, che si celebra il 9 febbraio. Dall'indagine è emerso anche che quasi la metà degli adolescenti ha vissuto sulla propria pelle atti di bullismo da parte di compagni 44,9%, che sale al 46,5% nei maschi. A differenza del cyberbullismo, che invece colpisce di più le ragazze, il 12,4% delle giovani ammette di esserne state vittima contro il 10,4% dei ragazzi. A questo si somma la sofferenza provocata dai commenti a sfondo sessuale subiti dal 32% delle ragazze contro il 6,7% dei ragazzi. Tra le molesti online, le provocazioni in rete, conosciute come trolling, disturbano il 9,5% degli adolescenti, ma colpiscono di più i maschi, 16%, delle femmine, 7,2%. Tra le ansie degli adolescenti italiani sui temi legati a bullismo e cyberbullismo è proprio la violenza in rete a fare più paura. Ma tra i rispondenti al questionario ci sono anche coloro che mettono in pratica atti di bullismo e cyberbullismo. Un ragazzo su 10 ammette di averli compiuti, mentre la percentuale si dimezza quando a rispondere sono le ragazze. La violenza tra pari online e offline è una realtà con cui i nostri ragazzi e ragazze devono fare i conti. Realmente subita o soltanto percepita, entra nelle loro vite, probabilmente li agita, li condiziona e lascia dei segni sulla loro personalità, dichiara Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes. È una violenza fatta di contatto fisico, ma ancora più spesso è un attacco alle proprie insicurezze e a quella dell'identità che va formandosi in modo sempre più marcato proprio negli anni dell'adolescenza.